uno dei borghi più antichi di romano il borgo dei farronati qui abbiamo le contrade farronati signori e valle che vedo c'è un via vai enormi di antichi mestieri sono col capo contrade dei farronati tiziano cosa io ho fatto qua tiziano allora qua niente poche parole che abbiamo fatto una serie di ambuanti di una volta degli anni trenta che passava per queste famiglie e passava su queste case sosta corte in questo caso qua e ora arrivava spazio cammino arrivava il moeta arrivava poi amara arrivava strassaro robe robe vecce alla tara un sacco di personaggi anche un po particolari un po bizarri se vuoi raccontava anche storie di tutto aveva un poco di tutto gli vendeva quello che aveva e poi gli vendeva capo lu cosa sei mi fa spazio cammino è il lavoro che faremo e poi non anche il mio padre che mi ha fatto una tradizionato di fare spazio cammino di che mi ha fatto io mi sono un cavallo un cavaliere da un semozzo qua da un cavaliere da un semozzo ma quanti se fa skate a fare spazio cammino lo saputo che si fa skate si e no si e no che mi ha dato che mi ha dato saluto che mi ha dato che mi ha dato anche il mio lavoro in nero ti vedi al lavoro in nero anche un po e qua il moeletto donne quanti anni che è questa moglie qua questa moglie qua è 200 anni ma gina raffiare cortei una vita che sei in mezzo qui cortei quanto si fa a raffiare un corteo circa 100 lire ma anche anni però 40 anni fa bocciati che lavoro fai tu mi fa solo il bottonaro spiega come funziona perché mia mi fa una cassetta dei attrezzi qua mostra mostra gira 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 cavia cavia un attimo chiuso i merletti guarda che bei e dopo sotto che avevamo anche i bottoni a me scusa sposa ma qualcosa che hai un pochi di colombi pochi di checchetti perché un poco di tutto ma che mestiere fai a servizio a mara a poi a mara a mara ea cosa fai con tutte queste latonerie è pieno di latte perché devo dare al signore e qui che non ha la vacca in casa latte di vacca o di cavra latte di vacca anche cavra ma in papuca e ora immagino che io sia un pezzaro la cosa io capisco la parola che non ho detto femmine guarda qua chiamo il sardè i schi e il pacca a copponenta beh ho visto che che piace le femmine e il bisatto che abbiamo detto tutto beh ho fresco comprime il pesce che vuoi l'america cosa che ha tolto io qua dagli ambienti un po' beh già era il pezzaro che aveva un peso che spusava a fine mi sono incontentato un pochi di schi e lui aveva 10 franchi per 3 di schi io gli ho detto guarda 3 franchi ti do perché io appena 22 io vedo poi a mara e ora vabbè chiamo contrattato così e che è andata bello proprio chi di schi dai scusate mi sposa ma tutta sua sgnarata dei bocci qua dei bocci qua cosa di chi si deve fare si vedrà il saldame ma il saldame che a polvere ha cosa serve serve per nettare i lavei del rame e tutti gli ottoni anche tutti gli ottoni sì e la vedo sì anche la vedo ma c'è te qua in va e supa montagna eh sì qua in va e supa montagna anna dei sandri lavandara lavandara per tutta giornata eh sì fin sera già fredda l'acqua no no subito l'era fredda dopo di questa caldita buongiorno buongiorno mi sono stressato una volta andavo in giro poi a case tiravo su e strassi e piedi e cunizio orsi di maschio figli di ferro ferro vecchio tutto quello che la gente non usava in qualche modo lo tiravo su e lo pagavo così che manca un scherzo pochi ore no e dopo ti ho portato ho portato stato di San Giovanni ma soprattutto è pei e pei e ferro mare il rivendivo